...errori banali e non riuscendo mai a mettere in difficoltà l'avversaria, c'è riuscita nel terzo, ma sempre, poiché errori, si è soffocata, mi perdendolo 20, mi perdendolo 20, mi perdendolo 26, 24, dopo una rinonta incredibile, da 21-24, a 24 pari, battuta sbagliata di Camillerou, questa è una situazione di gioco...